Arrestati dalla squadra mobile due pluri pregiudicati di 42 e 43 anni, entrambi residenti in provincia di Rieti accusati di tentata rapina e danni di un anziano. Quest'ultimo infatti, mentre stava cercando di parcheggiare la propria autovettura nei pressi dell'ospedale dell'Ellis, è stato avvicinato da un giovane che si è proposto per aiutarlo nel fare la manovra. Poi la tentata rapina, o il denaro o la distruzione della macchina, ma l'anziano si è mostrato coraggioso e ha minacciato la chiamata al 113, di cui la fuga del giovane e del complice che nel frattempo faceva da palo. Immediata la denuncia dell'anziano cui è seguito l'intervento della Polizia di Stato che ha rintracciato i due malviventi al momento agli arresti domiciliari.